ho visto che cerca un aiutante io cucino questi dolci da 50 anni assaggi assaggi la prego che cos'è il gusto il profumo incredibili dovresti farla provare ha voglia di lavorare è un lavoro delicato li dobbiamo accogliere nel modo giusto i clienti vanno accolti bene io parlavo dei fagioli dobbiamo aspettare ancora circa un paio d'ore due ore dobbiamo farli abituare allo zucchero è come un primo appuntamento la giovane coppia deve imparare a conoscersi buongiorno che succede vorremmo comprare un po dei suoi dorayaki non è meraviglioso girano delle voci sulla donna che lavora con te ma il negozio va bene mandala via quando l'ho vista la prima volta aveva degli occhi tristissimi guardate ha sorriso credo che ogni cosa abbia una storia da raccontare arrivederci